Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 23 voti a favore dei gruppi PD e Italia Viva e 15 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la risoluzione della Commissione Sanitare cante indirizzi sui principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana, a seguito della consultazione pubblica degli Stati Generali della Salute. L'atto di indirizzo è stato approvato dopo aver accolto 16 emendamenti presentati dai consiglieri del PD all'interno della Commissione Sanità. Respinti invece otto emendamenti al testo presentati dalla Lega e due proposte di risoluzione presentate dal gruppo Fratelli d'Italia. Oggi, dopo sette anni, siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge, quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale cercando di accentuare aspetti che non modificano, non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema, ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti, visto le asle grandi e quindi la necessità di decentrare un po' le decisioni sul piano dei distretti. E contemporaneamente il tutto si accompagna a un forte ruolo della medicina sul territorio, che vedrà con il piano nazionale di ripresa e resilienza la Toscana avere la possibilità di costruire nuove o adeguare 77 case di comunità, quelle che noi finora abbiamo chiamato case della salute, portando il cittadino magari a trovare nella casa di comunità dove ci sono ambulatori, specialisti, farmacia, infermieri che poi operano sul territorio come i medici di base e quindi evitare di andare a ingolfare i pronti soccorsi di cui ci rendiamo conto anche in questi giorni esserci forse l'elemento di maggiore criticità del sistema. Emergono tanti aspetti, noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi è riguardato intanto dei macro temi, che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato, che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività. Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione, di tutti i determinanti della salute, che sono l'elemento sul quale si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale. Poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. Poi ovviamente la questione è riguardata anche la non autosufficienza, il tema della disabilità, l'emergenza urgenza dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni. Ovviamente la mozione riguarda un po' tutti gli aspetti, poi anche per quanto riguarda l'innovazione digitale come elemento essenziale e trasversale sul quale investire molto nei prossimi anni e a partire da un'immediata resa di interoperabilità dei sistemi a l'innovazione che nei prossimi anni porterà addirittura anche da un punto di vista medio sempre più verso una medicina personalizzata. Ovviamente quando si parla di salute gli aspetti sono tantissimi, li abbiamo riassunti in questa risoluzione che impegna anche il Consiglio e la Giunta nei prossimi mesi a una serie di azioni tra i quali la revisione della legge 40, il nuovo piano sociosanitario regionale, è quella che riguarda una revisione complessiva degli enti di garanzia come il governo clinico e l'agenzia regionale di sanità. Sulle liste d'attesa diciamo però che c'è bisogno di rafforzare l'attenzione non solo sull'aumento delle prestazioni ma anche sul governo della domanda, cioè se abbiamo visto che ci sono i sistemi dove si è più riuscito a battere liste d'attesa sono quelli nei quali è stata fatta un'analisi ingegneristica di quelle che sono le prescrizioni mediche per ogni tipologia di prestazione e il sistema ha fornito quella quantità di prestazione, quindi le liste d'attesa in quel caso si formano solo se c'è per una serie di motivi come è stato per esempio il Covid sulle visite cardiologiche che ha generato un'iperprescrizione, allora è evidente lì si crea la lista d'attesa, però se non in maniera ordinaria quelli che hanno fatto questa maniera in Toscana sono riusciti a governare, mentre laddove l'attenzione sulla prescrizione è stata più bassa le liste d'attesa si sono formate in maniera più significativa, è stato più difficile abbatterle. Il piano delle casse delle comunità intese come infrastruttura fisica c'è già e l'assessorato l'ha già presentato al Ministero, ovviamente ora si tratta di metterci dentro personale, formarlo e implementarle in tutta la regione. Nella sostanza sono le casse della salute, evolute rispetto a alcuni aspetti e che vengono poi esportate in tutto il territorio nazionale, sono cioè un luogo dove il cittadino troverà in teoria le risposte a tutti i bisogni di salute, quindi sia la dimensione medica, la dimensione psicologica e sociale, quindi troverà il medico di medicina generale, questa figura che in Toscana alcune parti c'è già e che funziona molto bene dell'infermiere di comunità o di famiglia, che dovrebbe fare anche tutta la parte insieme al medico di medicina generale di medicina di iniziativa e quindi richiamare chi ha un problema di cronicità, diabete, ipertensione eccetera eccetera, trovare la diagnostica di base, tutto il tema appunto dell'assistenza sociale, quindi c'è nella casa di comunità l'assistente sociale, le case di comunità sono aperte H12, quelle normali, quelle hub e quelle quelle spocche, quelle hub e addirittura H24 integrando anche quello che era la guardia medica, quindi un punto di riferimento vicino a casa per tutti i problemi di base dei cittadini. Allora l'impianto è stato diciamo a livello generale positivo, però ovviamente io ho fatto un esempio a Gianni per richiamare perché abbiamo presentato una nostra risoluzione, Picasso ha due periodi importanti, il periodo rosa e il periodo azzurro e l'arlecchino è in tutte e due, ma sono completamente diversi, per cui la nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra, ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre, anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali, noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con la conferenza dei sindaci, noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende, una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti, l'altra sarebbe una accettazione da parte dei reparti, quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti, quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine. La sanità è uno degli esempi peggiori del malgoverno della sinistra in questi anni in Toscana, non ci limitiamo a votare conto, presentiamo le nostre proposte per una sanità differente che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni. Noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza, di una struttura differente, non soltanto di più soldi, se è vero come è vero che per un'ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni, a Torregalli a 3 km di distanza 103, non c'è bisogno soltanto di più soldi, c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema, se è vero come è vero che a Ponte d'Era per una protesi d'anca si attendono 278 giorni ma solamente 20 al San Giuseppe, a Empoli che è a 30 km di distanza, se è vero come è vero che al San Giuseppe si attendono 6 giorni per gli interventi di tumore al colon e a Grosseto se ne attendono oltre 40, quindi c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi, c'è bisogno di più medici e da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario anche i medici laureati e gli specializzandi, ancora prima delle specializzazioni, chiediamo che si possano finanziare maggiore borse di specializzazione perché sapete che sono molti più i medici che si laureano di quelli che hanno accesso alle specializzazioni che sono necessarie per entrare a lavorare. La Toscana finanza soltanto 34 borse di specializzazione nel 2021, sono troppe poche, i soldi vanno spesi soprattutto lì. Serve un quadro normativo regolatorio delle case di comunità, delle case di salute perché non è possibile che tutte le persone vadano all'ospedale o al pronto soccorso, ci devono essere dei punti di accesso intermedi ma in quei punti di accesso, per esempio le case di comunità si deve trovare gli ambulatori, dei medici di famiglia, dei pediatri, degli specialisti, si deve trovare dei punti di primo soccorso, uno sportello farmaceutico, una diagnostica di base e se non si può lasciare tutto al caso come è stato ahimè lasciato in questi anni. Quindi noi riteniamo che ci voglia una sanità con più soldi sicuramente ma una sanità governata meglio e diversamente da come è stata governata fino ad oggi. Per questo Fratelli Italia le idee chiare e oggi abbiamo presentato in Consiglio regionale e nelle piazze durante le prossime settimane. Trasparenza in sanità significa che le nomine non possono essere a pannaggio di le correnti del Partito Democratico, che non possono essere a pannaggio di una persona soltanto. Noi riteniamo che per esempio le aziende, siano queste ospedaliere o le asle, non possono essere governate da un organo monocratico, una persona sola al comando. Ci vuole un organo collegiale, per esempio composto da tre, direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, dove il direttore generale è un primus inter pares, non è il monarca che governa miliardi di euro da solo senza rendere conto a nessuno per anni. Quindi pensiamo a una governanza differente anche passando dall'organo monocratico all'organo collegiale nel governo delle asle toscane. Il Tervia sostiene il documento degli stati generali della salute, un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta, fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa, grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti e queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES, se si va a vedere oggi i tassi di interesse che livelli avranno, non soltanto adesso ma nei prossimi anni, avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente le avremmo avuto in maniera gratuita e quindi questo è un po' il rimpianto di oltre 30 miliardi in più che la sanità avrebbe avuto e ha cascato anche la regione toscana, detto questo le risorse ci sono, arriveranno investimenti, serve personale però intanto una risposta importante l'abbiamo data. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi, mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali, molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura e soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità, la sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal governo con la ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati, insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle Maxi Asle più volte criticate su cui mai e dico mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione. Sulle Maxi Asle sicuramente diventa molto impegnativo il rischio di destabilizzare ulteriormente la sanità anche se sarebbe quanto mai opportuno ritornare indietro perché alla fine abbiamo visto che delle razionalizzazioni che si era detto avrebbero dovuto far risparmiare molto alla sanità si ammette nella risoluzione stessa che c'è stata una riduzione del numero di ruoli di posti ma nessun risparmio, quindi significa fondamentalmente un fallimento di quelli che erano gli obiettivi principali della Maxi Riforma del 2015 e da qui a cascata tutto quello poi che ne è derivato. Ci sono 800 mila persone in lista d'attesa, ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità, le persone non riescono a fare o a prenotare una visita e questi del Partito Democratico del centro-sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro. Andiamo alle elezioni subito, noi siamo pronti a farlo, abbiamo dimostrato che dove governiamo la scorsa tornata delle elezioni amministrative vinciamo, i cittadini premiano il buon governo, il Presidente Gianni venga in Consiglio regionale, ponga la fiducia sul suo programma di governo, noi siamo pronti ad andare alle elezioni, il Partito Democratico ci sembra che sia più attaccato alle poltrone rispetto al benessere dei cittadini, noi pensiamo che debba essere fatta una riforma seria del sistema sanitario a partire anche dalla riforma dei medici di base che dia una risposta immediata ai tanti bisogni, usciamo da due anni difficilissimi dove anche le richieste di diagnostica sono aumentate, in particolare il 40% sulle visite cardiologiche non si riesce a prenotare, il CUP non funziona, ecco i disservizi della sanità dove noi come regione ci mettiamo 8 miliardi di euro, fronte di quegli 8 miliardi di euro noi vogliamo un sistema sanitario che funzioni, occorre a snellire le liste d'attesa immediatamente, dare la possibilità ai cittadini di essere curati in tempi certi, fare una convenzione col privato immediata per snellire tutte le liste d'attesa, occorre potenziare, lo ripeto, potenziare la sanità territoriale, le case della salute, potenziare far diagnostica lì dentro, fare una riforma del 118 vera, non come quella che è stata fatta sacrificando i tanti medici e i tanti infermieri ai quali va il nostro ringraziamento perché hanno passato due anni a sostenere la sanità italiana, in particolare la sanità toscana, poter far diagnostica all'interno le case della salute e finalmente premiare il merito. Basta con coloro che fanno carriera perché hanno una testa di partito in tasca, noi vogliamo primari e medici bravi e che meritino il loro posto. Vogliamo ancora capire, e lo abbiamo chiesto, dove sono andati 300 milioni di euro di deficit che sono stati ripagati con dei tagli lineari che il governatore e questa giunta, cioè il Partito Democratico, ha chiesto ai direttori delle ASLA, ai dirigenti delle aziende sanitarie. Quei 300 milioni che fine hanno fatto? È un tema assolutamente complesso sul quale però, come dire, ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati. Anzitutto il concetto di prevenzione, un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile. Più si previene e quindi più si favoriscono anche forme di educazione, stili di vita, consumi consapevoli, meno si accede al servizio sanitario e questo deve essere l'obiettivo perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza. È chiaro che ci sono altri aspetti poi, la questione ad esempio delle aree interne. Noi abbiamo una Toscana che, come dire, presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia, che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità, dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici. Noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra nelle aree della provincia e questo non è assolutamente accettabile. Quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quantomeno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente a giustificare quel tipo di investimento. Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore. Non sfugge poi la questione finanziaria. Noi dobbiamo assolutamente agganciare la programmazione e l'organizzazione di tutto il sistema a partire dalle ASL fino agli ospedali e tutte le strutture correlate. Se noi non programmiamo adeguatamente la spesa è impensabile riuscire ad avere un equilibrio di bilancio e questo lo facciamo a nostro parere intervenendo magari all'interno dell'assessorato con una direzione che sia proprio dedicata al monitoraggio costante sulle risorse. Se monitoriamo bene le risorse vengono gestite in modo efficiente e anche i cittadini ne beneficiano perché a questo punto potremmo pensare che anche temi come le liste d'attesa infinite attraverso una migliore organizzazione del servizio possano in qualche modo quantomeno essere corretti.